Salve a tutti, io mi chiamo Leonardo e studio internazionalizzazione e logistica. Dato il periodo che stiamo affrontando e il corso che sto facendo, mi sono sorti alcune domande. Per esempio, che cosa succederà alle aziende e vinicole italiane sul mercato estero in futuro? In questo momento, come ben sappiamo, ci sono molti problemi. Uno fra tutti è il drastico calo delle vendite internazionali, poiché le esportazioni hanno ricevuto una battuta d'arresto, dato che i paesi sono sostanzialmente chiusi. Un altro problema è il grande calo della visibilità, data la cancellazione di fiere molto importanti come il Vinitali e il ProWine. Nonostante i vari dati negativi, però, potrebbero sorgere alcune opportunità. Per esempio, se Italia sarà uno fra i primi paesi ad uscire dall'emergenza sanitaria e conseguentemente uno dei primi paesi a riprendere le esportazioni, è probabile che le aziende italiane possano accaparrarsi, quelle fette di mercato che in un tempo appartenevano ai competitor, in mercati molto importanti come la Cina, che fino a poco tempo fa, era il primo importatore di vino al mondo. Questa è solo una visione di quello che potrebbe succedere. Quindi, voi cosa ne pensate?